Ciao a tutti, allora perdonate lo stato, guardate in che stato ho i capelli perché li devo tenere legati quando esco fuori perché ovviamente hanno proprio chi è detto che non è igienico tenere i capelli sciolti il problema qual è? Che io quando sono puliti sfuggono quindi sono una pazza, ho fatto una coda, adesso si è allentata ma non fa niente notare i segni della mascherina che si è portata via il fondotinta sentite blitz che sta cercando di attirare la mia attenzione ovviamente non si fa prendere quindi praticamente è impossibile che io riesca a prenderlo se vieni qui ti faccio vedere le persone vieni 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 no? se non ti fai prendere io come faccio? no? sta cercando di attirare la mia attenzione lui raramente è quello più schivo voi avete visto finora Divo e Caramella quando era con me ma lui non si fa prendere scusate vediamo se riesco a recuperarlo no non riesco Divo e beh Divo Blitz basta è ciccione quindi lui ha un chihuahua apparentemente a dieta perché è un chihuahua ciccione perché è un chihuahua molto pigro lasciamo perdere sei anche molto sporco essendo bianco basta Blitz basta Blitz sta cercando di attirare la mia attenzione essendo bianco notate anche la macchia della allora vi spiego la mia mascherina è quella con la cucitura qui è nel basta è il filtro chiamiamolo filtro praticamente ha questa cosa di plastica che è una cosa finta cinese non è FFP2 FFP3 è semplicemente di stoffa con il filtro interno in carbone cioè è una roba che non credo che sia mi protegga da dalla malattia qualora dovessi però protegge almeno gli altri dal mio respiro perché potrei essere asintomatica allora mi hanno misurato la temperatura sia davanti a MediaWorld che davanti a Sephora sono entrata dentro Sephora non ho acquistato niente da Sephora però dove volevo fare un giro sono andata da MediaWorld a ritirare il cellulare che adesso vi faccio vedere e poi sono andata dentro Iper la grande I perché cercavo i guanti ma no non li ho trovati quindi allora vi faccio vedere cosa ho preso a parte prendere il dentifricio a mio marito perché era finito allora cosa ho preso intanto cosa mi è arrivato stamattina da Amazon mi è arrivata la custodia che spero che vada bene per il cellulare ho preso questa qua trasparente anche perché il cellulare essendo rosso e poi le pellicole un pacco da quattro queste sono pellicole come si chiamano vetro temperato ecco perché quelle normali sottili non forniscono alcuna protezione non ho attivato la casco perché la trovo una inutile le ultime parole famose poi cosa ho preso da Amazon è arrivata la famosa crema dell'Eclat che ha consigliato Giulia Cova in uno degli ultimi suoi video quello delle creme dei prodotti low cost allora siccome io dei consigli di Giulia Cova mi fido molto perché è molto brava molto preparata ho preso questa anti-wilcol face cream natural per pelli giovani in realtà è una crema giorno ai peptidi con moltissimo con moltissimi peptidi ha anche il il rame quindi peptidi di rame peptidi una serie di pentopettide polipeptide lipopeptide insomma ne ha diversi in più ha la vitamina C il tè verde l'acido ialuronico e il collagene allora questa è costata 9 euro e qualcosa su Amazon è questa qui Giulia dice che si trova bene la usa lei sotto il trucco di giorno perché ed è la stessa cosa che io cerco in una crema viso giorno quindi un'azione sia antirughe che antinquinamento stupende righe del correttore ma ho usato un correttore liquido adesso vi faccio vedere anche poi cosa ho preso da Amazon non ho preso più niente solo queste cose poi oggi da Iper sono andata a prendere appunto il scusate sono rincojonita sono andata appunto a prendere il dentifricio per mio marito lui usa il parodontax si trova bene perché ha le gengive molto sensibili si trova bene col parodontax e quindi gliel'ho preso dentro Iper è un supermercato ho preso questo spray igienizzante per superfici perché mi serve perché sui cellulari il tablet la salvietta igienizzante non riesce a essere rapida in più questo invece è proprio per superfici e oggetti quindi siccome multipurpose spray multiuso con insomma igienizzante non è un presidio medico chirurgico ma alla fine è della fiera e poi ho preso questi qua con antibatterico queste qua sono portatili io ne ne uso circa una decina ogni volta che esco perché igienizzo il carrello mi pulisco le mani pulisco il cellulare insomma non sono germofobica io per fortuna perché altrimenti c'ho core però ci sto attenta in più ho trovato questa cosa divertentissima nuova è una doccia mousse doccia della winnis praticamente sembra un grosso e dice ricaricami non gettarmi quindi praticamente voi potete mettere ogni volta il vostro penso detergente e potete riutilizzare questo questa cosa poi non so come funziona è curioso 2 euro e qualcosa ero curiosa di provarlo è alla vaniglia vaniglia aspettate che ve lo dico è vabbè certificato bio vegetale bio con materie prime di origine vegetale bio testato nickel cobalto cromo senza allergeni e vaniglia burro di carité è uno spray sotto la doccia cioè bagno schiuma doccia schiuma è una figata a me piacciono tantissimo soprattutto in estate queste soluzioni in mousse invece di usare il classico detergente sono fichissime poi ho preso siccome mi era finito l'acido ialuronico ho preso e non avevo voglia sinceramente di fare l'ordine da flower tails perché ordinare fare un ordine online solo per l'acido ialuronico francamente no e da amazon ho visto ma aveva un prezzo piuttosto altino perché veniva 23 euro 24 euro non avevo voglia allora ho trovato questo qua della clinians in offerta era 5 euro e qualcosa invece di 15 quindi un bellissimo prezzo dunque ingredienti acqua glicerina sodio ialuronato idrolizzato sodio ialuronato idrolizzato glucosaccarizzato quindi penso sia il triplo peso molecolare acido citrico sodio citrato e poi come conservante alfenoxietanolo non è malaccio è abbastanza alto in inci quindi va bene l'ultima cosa che ho preso è iper ho preso siccome io il medico mi ha detto devi bere devi bere perché devi bere bevi troppo poco non va bene ed è vero in realtà in inverno io bevo meno in estate bevo di più mi piace farmi queste tisane a freddo praticamente io le metto metto due bustine e mezzo litro d'acqua e vado bevendo questa cosa questa è nuova idrapelle ciliegie anguria e rosa canina collagene e vitamina c sono curiosa l'ho presa in realtà io mi faccio di tutto cioè anche quelle a caldo io le preparo anche a freddo lo fa anche Annalisa lo faccio da sempre anche quelle a caldo le preparo così a freddo tanto le lascio in infusione un'ora anziché dieci minuti a meno che non si tratti di infuso allora lì è diverso perché va preparato con l'acqua calda che aiuta a scorporare l'infuso l'ultima cosa sono passata prima di spacchettare il cellulare sono passata da scarpe scarpe perché io passo sempre per vedere se sono se arrivano questi della catrice i correttori e questa volta ho deciso di prenderne uno anche per me della 003 porcelain voglio provare di nuovo a vedere com'è poi ho preso quello nuovo l'instant awake concealer idratante lo sapete ragazzi io sono fissata e il nuovo allora questi qua sono 3 euro e qualcosa questo è 3 pure 4 euro e poi ho preso il nuovo il nuovo eyeliner perché mi è finito il tattoo liner della della che crisi vabbè fidatevi sulla parola comunque mi è finito l'ink liner della oddio che crisi mistica niente non fateci caso ora sono ora mi sono fissata lo devo cercare della nix ecco mi è finito perché e siccome ieri Gaia mi ha fatto ha fatto vedere su uno degli nel canale basic Gaia ha fatto vedere nel video del matrimonio di sua sorella di come ha truccato sua sorella un nuovo trip che a sua volta ha preso da Cheryl Pandemonium in cui si fa solo la codina io anche io ho gli occhi come lei a palla si fa solo la codina e non si fa questa parte qua quindi ho pensato che anche se non ho la palpebra esattamente liscissima io questa parte qua ce l'ho ancora piuttosto liscia quindi voglio provare però mi era finito l'eliner e allora ho preso perché è quello il tattoo liner della l'ink liner scusate non è tattoo liner il tattoo liner è quello di Kat Von D l'ink liner della della NYX non è waterproof quindi purtroppo va via questo invece è waterproof quindi lei dice che è buono e voglio provarlo beh apriamo il cellulare allora il cellulare io sapevo che era più grande è abbastanza grosso già la scatola ed è molto pesante lo scatolo la scatola e poi mi si dice perché dici lo scatolo perché sono siciliana ok momento smr se riusciamo allora mentre apriamo il cellulare riflessioni su orio center l'ultima volta che sono stata a orio center è stato cinque mesi e mezzo fa quindi io sono stata a orio center circa gennaio metà gennaio sì con c'erano ancora i miei qui a Bergamo e già di mio non stavo bene quindi io non amo moltissimo i centri commerciali mi vado il minimo indispensabile quando mi serve qualcosa ma se posso evitare evito riflessioni su orio center non c'era tanta gente e ovviamente è un giorno lavorativo e sta deluviando quindi non c'era molta gente ma la poca che c'era non aveva l'idea minima delle distanze di sicurezza e teneva la mascherina con il naso scoperto perché? perché? ti misurano la temperatura non da tutte le parti come ho detto da Media World sì da Sephora sì ma da scarpe a scarpe e a Iper no per esempio e i gel igienizzanti ovunque che dire ci vediamo tra sei mesi orio center nel senso se non è necessario io non vado a orio allora la scatola è leggermente ammaccata io spero che il cellulare non sia danneggiato ma d'altronde non dovrebbe allora vediamo io ho il terrore di aprire no non è danneggiato perfetto allora qui ci sono le solite robe design by apple in california in realtà fatto in cina il design è pensato in california ma in realtà è fatto in cina allora il colore product red come vi dicevo mi sarei informata su su l'associazione a cui viene devoluta una quota di questo prodotto l'associazione è l'associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS quindi una bella una bella cosa una bella bella cosa veramente allora il telefono è qui mamma mia quanto è grande ok rispetto al mio è veramente enorme allora vi faccio vedere la differenza con il mio iPhone il 6s e gli xr allora vedete io al momento non lo accendo questo è il dietro veramente veramente molto bello veramente bello vedete riflesso l'iPad non lo accendo adesso poi anche perché ragazze questo telefono è uscito nel 2018 io arrivo sempre sempre in ritardo è uscito appunto nel 2018 quindi è pieno youtube di video di spiegazioni anche perché io non ne capisco una fava letteralmente non capisco niente di cellulari io lascio fare infatti sempre la scelta a mio marito che sa benissimo come cosa mi serve cosa quali sono le caratteristiche importanti per me quindi che faccia dei bei video che sia decente come come fotocamera quindi che faccia delle belle foto dei bei video e e che abbia una buona memoria e una durata della batteria questa è l'unica cosa che mi interessa perché fondamentalmente io poi col cellulare a parte fare video foto guardare i social e giocare a candy crush non faccio altro quindi non è che non mi serve un telefono ultra mega figo con le mega caratteristiche no mi serve un telefono che quindi io fondamentalmente l'unico telefono che ho avuto che era appena uscito che per me è stata una follia perché allora è costato mille qualcosa 900 e qualcosa comunque quasi mille euro mi è sembrato una follia infatti mi sono anche piuttosto no arrabbiata perché non mi sono arrabbiata però ho detto non mi sembra un po' troppo è stato il 6S era appena uscito quando me l'ha comprato quindi però di solito io tendo a prendere i cellulari quando costano meno ecco quindi quando non sono più così nuovi questo qui è uscito nel 2018 quindi un anno e mezzo fa circa che è uscito a fine 2018 credo settembre ottobre del 2018 comunque se guardate se cercate unboxing come funziona le caratteristiche guardatevi i video su youtube perché è pieno 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 tra l'altro Anna Rosa mi diceva che era interessata e voleva cambiare anche lei il suo 6S Plus per prendere questo telefono io ancora non l'ho acceso non l'ho provato non so com'è quindi quando lo saprò vi saprò dire come mi trovo e quant'altro bene diciamo che domani dovrebbe arrivare l'ordine di Libellula Bio doveva arrivare oggi ma purtroppo c'è stato un contrattempo e quindi il corriere non è riuscito a ritirare il pacco quindi dovrebbe arrivare domani e ovviamente farò un video a parte vi farò l'unboxing e così vi metto tutti i riferimenti di Libellula Bio così non faccio un mischione bene vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao